Lui è pronto ad andare incontro al proprio destino. Lei, invece, non ci sta proprio ad accettare quello che ha deciso il destino. Non ci sta a parlare! Non ci sta a parlare! Non ci sta proprio ad accettare quello che ha deciso il destino. Che ha fatto sì che l'altro incontrasse l'altra, che i destini a cui dal punto ne ha davvero parecchi. Tutto davanti a un citofono. Il tempo di chiedersi. Continua! Continua! Ti sta inzetta! Sali. Ossì!